ogni movimento storico e ogni movimento artistico del novecento per non parare dei secoli precedenti pecca dello stesso peccato una indiscutibile misoginia mi sono domandato fin da quando ho iniziato la mia pratica artistica perché persino in uno dei movimenti più d'avanguardia che abbiano mai come dire solcato il dibattito intellettuale globale come il Bauhaus l'identità femminile si è stata relegata in ruoli in qualche modo minoritari e ho sempre visto una perfetta metafora di questa ingiustizia nella coppia di Joseph e Annie Albers tant'è vero che tutt'oggi gli omaggi al quadrato di Joseph Albers sono dei trofei per ricchi collezionisti e i meravigliosi disegni di tessuti elaborati dalla geniale Annie sono semplicemente dei trofei per mostre iper intellettuali da museo preferibilmente museo un museo molto sofisticato la scelta quindi per me è stata naturale riprendere in mano uno strumento come lago e il filo che in qualche modo facesse riferimento alla manualità femminile ma invertire la gerarchia e quindi far diventare dei grandi trofei o ibridare i pattern disegnati da anni con le geometrie concepite da Joseph insomma riequilibrare ridare a Cesare quel che era di Cesare ridare ad anni quel che era di anni